Tutto è cominciato la scorsa settimana con la rivolta di alcuni sindaci capitanati dal primo cittadino di Palermo, Leo Luca Orlando, che si sono rifiutati di applicare le nuove norme previste dal decreto sicurezza, in particolare quella che riguarda l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo. La protesta si è poi largata a macchia d'olio con le regioni Toscana, Piemonte e Umbria che hanno annunciato la volontà di fare ricorso. Ora è arrivato il turno dell'Emilia Romagna che si inserisce nel pieno della battaglia col Viminale senza però andare a un muro contro muro. La legge va applicata, spiega Bonaccini. Quello che faremo noi sarà di rivolgersi alla consulta impugnando non l'intero decreto ma le norme che più direttamente riguardano regioni e comuni. Tra i punti critici i rischi che deriverebbero dall'esclusione dei migranti dall'accesso ai servizi sanitari. Una vera contraddizione, spiega Bonaccini, nella regione che per prima ha imposto l'obbligo vaccinale. Gli risponde per il governo il sottosegretario la giustizia Jacopo Morrone e non sono parole leggere. Il presidente della regione crede di essere al supermercato attacche leghista che difende il decreto cavallo di battaglia di Salvini. Non vuole impugnare la legge per intero ma solo le parti che gli fanno comodo. Morrone che poi rincara la dose chiedendo che Bonaccini rassegni le dimissioni dalla carica di presidenti della conferenza delle regioni e delle province autonome. Insomma una polemica destinata ad andare avanti nel tempo con una nuova data già da segnare col pennarello rosso, quella del 10 gennaio, giorno in cui Lancia ha convocato tutti i sindaci d'Italia per discutere il da farsi.